La ditta Chune Vollerin, presente sul mercato nazionale e internazionale, è leader nella vendita di leghe di nickel e cupronichel, leghe duplex e super duplex, e distributore esclusivo per l'Italia della VDM. L'azienda si occupa della vendita e della lavorazione di lamiere e barri in leghe e super leghe di nickel resistenti alla corrosione e alle alte temperature per il settore chimico, etrolchimico, offshore, cantieristico e del trattamento termico. Cupronichel per impieghi in acqua di mare, lamiere e dischi in cupronichel per piastre tubiere, tubi in leghe di rame per scambiatori di calori, tubi elettati per rullatura, bronzi speciali per industria motoristica e materiali per saldatura. La Chune Vollerin si rivolge a industrie che producono fili, cavi per trasmissione di energia, linee telefoniche anche in fibre ottiche, strumentazioni di controllo e impianti ausiliari. Ha le rappresentanze di gruppi metallurgici tedeschi operanti nei settori dello scambio termico, dell'industria petrolchimica, dell'industria navale con materiale in prevalenza di leghe di rame, carte e passamanerie per prodotti di arredamento nel settore dell'illuminazione.